Buongiorno, io sono pronta, sto per andare da Farmacosmo all'evento beauty e niente vi porto con me, sono in ritardissimo quindi ci vediamo da Farmacosmo Un bacio, ah sulle labbra ho usato il nuovo rossetto di Burro Bio, il numero 6 Un bacio, stavo dimenticando, vi faccio vedere anche uno spezzone dell'outfit che ho scelto e niente sono super emozionata Allora questo è l'outfit che ho scelto, pantaloni semplici a sigaretta di Stradivarius, la maglia di Asos e le scarpe sono quelle che vi ho mostrato nel haul di Patrizia Pepe Con una borsa semplicissima ma molto capiente e niente io vi aspetto da Farmacosmo e scappo perché sono in ritardo, un bacio S spazio Ciao 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti